Tutto poteva essere evitato se il parroco si fosse attenuto alle disposizioni del questore, lo dice con fermezza e chiarezza il presidente della conferenza episcopale Calabra, Monsignor Vincenzo Bertolone, che così chiarisce ancora una volta la posizione dei vescovi calabresi sul caso aperto dalle dichiarazioni e dal comportamento del parroco di Platì in occasione dei funerali dell'esponente ad una cosca locale. Quello che è venuto a Platì poteva essere evitato in maniera molto semplice se il parroco si fosse attenuto scrupolosamente alla disposizione del questore di reggio, e cioè celebrare solo con i familiari al cimitero la Santa Messa. Noi abbiamo il dovere di avere una leale collaborazione con lo Stato e se un questore dà una disposizione noi dobbiamo attenerla, dobbiamo attenerci ad essa, a quella disposizione.